Vince e diverte lo Sporting Sala Marcianise che strapazza 7 a 3 il giovinazzo portandosi a soli 3 punti dalla vetta. Convincente prova degli uomini di Kunderi che dimostrano notevoli progressi in tutti i reparti. Match winner Antonio Russo che con 4 gol ha annichilito la difesa pugliese. Pronti via De Ciro Attanasio a dare un saggio della propria bravura. Prima sinistro Mortifero che batte la bianca, poi assist per Antonio Russo che raddoppia agevolmente. Al terzo siamo già 2 a 0, i biancoverdi impiegano qualche minuto per riprendersi. Francesco Bonvino prova a fare tutto da solo con un'azione avviata nella propria area di rigore. Bravo guerra, non lasciarsi superare. Sono però sempre i padroni di casa a sfiorare il tris, primo con un ispirato ruoccolano, quindi con Antonio Russo che vede deviarsi la conclusione in corner. In campo c'è solo una squadra e si vede. Bucciero ruba palle e si invola a destra preciso che vale il 3 a 0. Il numero 8 è in giornata e il portiere al minuto 13 deve fermarlo con le cattive. Rigore e ammunizione dal dischetto russo non sbaglia, 4 a 0. Il giovinazzo si riorganizza, inizia a pressare alto e dopo una clamorosa traversa di Marzella corcia con lo stesso capitano direttamente su punizione. I baresi sembrano essersi destati dal sonno colpendo nuovamente al 17esimo con Barbolla splendidamente assistito da Deliso. Non è ancora finita, rimessa di Ruoccolano, Attanasio per Bucciero e 5 e 2 all'intervallo. Ad inizio ripresa subito chance per Bonvino che però angola troppo graziando guerra. A distanza ravvicinate i Russo provano a piazzarla con precisione chirurgica ma la mira difetta seppur solo di qualche centimetro. Stessa scena dall'altra parte con Deliso che intercetta la sfera e mira alla sinistra del portiere. Nulla di fatto. Il palo ferma Ruoccolano, poi Antonio Russo decide che è arrivato il momento di chiuderla. Due gol e Marzella avrà gli incubi per un bel po' di tempo. L'ultimo sussulto è di Francesco Bonvino. Finisce 7-3 per i gialloblu. Si tratta del secondo successo di fila interno. Ora la sosta per preparare adeguatamente la rimonta. Finice 7-3 per i Gилиi Petra. Grazie a tutti.